ciao ragazzi oggi video fighissimo strutturato in tre parti tre parti un po differenti tra loro ma che si tengono bene con un bel filo rosso e che spero sia di interesse di utilità per molti di voi ricordo sempre di iscrivervi al canale di mettere like di darmi feedback darmi modo di portare avanti di portare avanti con interesse questa costruzione di questo canale dedicato alla programmazione alla programmazione eidera quindi dicevo video di oggi strutturato in tre parti una prima parte che riguarda un aspetto banalmente legato proprio alla tecnologia e alla fresatura e questo perché in realtà mi servirà come gancio per poi appoggiarmi ad un ciclo fisso all'interno dei controlli eidenheim la seconda parte invece del video sarà l'angolo autoreferenzialità dove mi darò da solo una pacca sulla spalla e mi dirò che sono stato un figo a pensare e a realizzare quella cosa che vi mostrerò parte tre del video invece che sarà una spudoratamente il fare il nome di un paio di persone non farò i cognomi ai quali proporrò anche telefonicamente dopo avergli mandato il link il link di questo video proporrò spudoratamente il dai che se siamo fighi carichiamo questa cosa direttamente su icn come customizzazione quindi cominciamo a vedere l'argomento quindi il il pretesto iniziale è il ciclo 275 presente nei controlli eidenheim trovate anche già su parecchie versioni del 530 e altro non è che un ciclo per realizzare una scanalatura trocoidale quindi per intenderci è una lavorazione che si muove in questo modo qua ok quindi anziché anziché affrontare la lavorazione nel pieno per realizzare una scanalatura invece si preferisce questa traiettoria circolare che avanza gradualmente per appunto sollecitare meno l'utensile poter sfruttare meglio una profondità la profondità quindi la la ap del nostro utensile e lavorare molto di meno sulla e e poi eventualmente su avanzamenti quindi questo è il pretesto questo è il pretesto per quanto che per quello che vedremo oggi quindi qui c'è questo parametro che in realtà è sempre un po difficile da quantificare da attribuirgli il valore corretto ok e vediamo perché è difficile attribuirgli il valore corretto quindi partiamo da questa immaginetta qua io spero di riuscire a fare tutti i collegamenti di tutte le finestre che ho aperto senza fare confusione quindi contornatura in questo caso l'immagine che vediamo è una contornatura dove il nostro utensile è impegnato del non mi ricordo forse del 20 per cento ok quindi quando si ha un un impegno laterale così su un movimento rettilineo quindi è facile anche calcolare qual è l'asportazione reale quindi la nostra fresa impegnata del di una fresa da 20 se è impegnata del 20 per cento vuol dire che staremo asportando 4 mm lateralmente fosse impegnata del 10 per cento saremmo invece sui due millimetri ok e questa cosa qui ci viene abbastanza facile il problema arriva quando la traiettoria non è più rettilinea e quindi il nostro 20 per cento di impegno fresa in realtà diventa ora faccio il passaggio che si affronta una traiettoria circolare si dovrebbe notare ora vi rimostro che se qui il 20 per cento dell'impegno ci dà un ecco non l'ho disegnato e sono stato sciocco però c'è un angolo abbiamo un angolo che è l'impegno della fresa ok c'è tutto quell'angolo di attacco che è la parte in cui viene sviluppato il truccelo quindi così siamo attorno alla cinquantina di gradi poi vi farò vedere i numeri reali quindi se questa è la il 20 per cento sul movimento rettilineo quando si arriva su un movimento circolare si dovrebbe notare che la fresa è impegnata molto di più a occhio siamo attorno al che la fresa è impegnata per metà del suo metà del suo diametro ovviamente questa sproporzione questa crescita che avviene sul sull'angolo d'attacco è proporzionato al qual è il diametro del nostro utensile e qual è il diametro che stiamo costruendo quindi più il diametro da costruire è diciamo simile uguale o simile al diametro del nostro utensile quindi più il raggio da costruire è pari o poco più grande del raggio del nostro utensile e maggiore sarà questo aumento di quest'angolo di impegno della fresa se volessimo vedercelo quindi con dei numeri che forse rendono molti molto di più di tante parole quindi ritorniamo alla nostra immaginetta del movimento rettilineo quindi così il nostro impegno fresa sarebbe quindi del 20 per cento e siamo attorno e vedete che siamo attorno abbiamo un angolo di circa 53 gradi è quello che è il nostro impegno ora vediamo quando arriviamo sulla traiettora circolare ora qui non ricordo che il raggio ho costruito effettivamente è poco più grande però appunto tenete conto che le proporzioni variano a funzione del rapporto tra raggio fresa e raggio da costruire quindi quando invece siamo in questa situazione qua l'impegno della fresa non è più un angolo di 53 gradi che ci genera i 4 mm ma in realtà qui ci ritroviamo impegnati con un angolo del 92 e rotti per cento quindi capite che siamo sostanzialmente con la fresa impegnata ben di più rispetto alla traiettoria lineare e questo è un po il motivo per cui vi ritrovate costantemente nella realizzazione di raggiature interne piuttosto che raggi di all'interno di tasche e ad avere sempre delle sollecitazioni diverse sgrossature anche dei risultati differenti in finitura oltre a questo in realtà ci sarebbe da fare un discorso anche legato alla a quello che è la gestione degli avanzamenti quindi dell'avanzamento del centro fresa il rapporto all'avanzamento al tagliente ma questo è un altro argomento quindi la questione è quando si deve realizzare una ci si è completamente nella situazione come della nel momento in cui bisogna costruire un raggio interno quindi siamo in pieno in quella situazione quindi capite benissimo che il pensare di impegno alla fresa al 10 o al 20 per cento e fare un calcolo matematico esattamente come se ci stessimo muovendo sul lineare andiamo completamente fuori strada quindi innanzitutto questo tipo di lavorazione prevede che per lavorare in maniera ottimale la il diametro della nostra fresa deve essere diciamo deve girare tra essere un terzo o la metà rispetto alla larghezza della scanalatura in modo che ci sia tutto tutto lo spazio per muoversi e ottimizzare sia gli avanzamenti sia l'avanzamento diciamo al dente che l'avanzamento di queste sovrapposizioni di traiettori circolari nell'avanzare e quindi da qua arriviamo all'auto al momento pacca sulla spalla il momento pacca sulla spalla fa sì che ho sfruttato ho fatto qualche video un video poco tempo fa in cui mostravo tutta la mia curiosità nei confronti della dell'intelligenza artificiale quindi quello che vedete adesso qui in questa pagina è stato il la mia mio tentativo riuscito di realizzarmi una di realizzarmi una mascherina che mi permetta di calcolare al meglio questo movimento questo questa q 436 che c'è in questo ciclo qui vi faccio vedere questa cosa solamente per così per fare un po lo sborone e far vedere che per quanto non sappia nulla di programmazione python ma con con l'aiuto dell'intelligenza artificiale sono riuscito a farmi aiutare nella nella scrittura di tutto questo codice perché poi in realtà questo codice ha lo scopo di una volta lanciato di generarmi questa utilissima tabellina qua questa utilissima tabellina dove io posso semplicemente inserire la larghezza della cava che devo realizzare il diametro della fresa che utilizzo la percentuale di impegno fresa che voglio poi utilizzare e quindi poi farmi calcolare il valore della q 436 quindi ora torniamo torniamo nel sul simulatore e vediamo un po quindi l'applicazione ok quindi questo qui è il nostro programma dove all'interno del dove all'interno del ciclo appunto dopo che compiliamo è il tipo di lavorazione la larghezza della scanalatura io adesso se vedete ho scelto una fresa da 20 la larghezza della scanalatura decido un 40 una sgrossatura lascio del sovrametallo al momento di dover decidere l'avanzamento al giro allora a questo punto non faccio altro che collegarmi con la mia con la mia fantastica mascherina che poi l'ho fatta diventare un failino exe in modo da poterlo aprire agilmente sul computer in cui puoi poter andare a compilare quindi la mia larghezza della cave di 20 mm la mia fresa è un diametro 20 e decido di impegnare la fresa al 10 per cento calcolo passo trochidale 1,08 perfetto vorrà dire che nel mio programma inserirò che il passo quindi l'avanzamento al giro sarà di 1,8 ok faccio end faccio sparire la mia finestrella python e quindi questa qui sarà poi il risultato della mia della mia lavorazione sono stato bravo posso darmi una pacca sulla spalla e qui allora arriviamo alla parte 3 del video ovvero quanto sarebbe bello e mi rivolgo a fabio che non è neanche lontanissimo da me e che è un ragazzo molto in gamba a luca che è un po più lontano di me ma un'altra persona molto in gamba sul mettere mano nelle parti software delle macchine e la domanda è fabio luca ma quanto sarebbe bello poter inserire all'interno del controllo la possibilità di aprire automaticamente questa mascherina qua in modo che durante la programmazione quando l'operatore arriva a questo punto riuscire magari a creare un soft key qui piccolino che se selezionato che se selezionato ci apra ci apra questa bellissima mascherina e che ci aiuti a compilare quindi correttamente questo valore quindi questo è la terza parte del video dove mi rivolgo spudoratamente a fabio ea luca niente spero che queste piccole cose vi siano sembrate interessanti non penso di avervi stravolto l'esistenza però due o tre informazioni carine anche sul punto come ci si come bisogna ragionare quando si quando si calcola una a e per realizzare delle contornature interne o esterne che siano e quindi di valutare di quali variazioni ci possono essere realmente sull'impegno fresa su tra una traiettoria lineare e una traiettoria circolare e che a volte il nostro percepito in realtà non ci fa notare che nel reale nelle tre le traiettorie circolari ci si ritrova nella situazione non propriamente migliore per realizzare la lavorazione ok nient'altro da dire un saluto ciao ciao e iscrivetevi 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 l'ho già detto iscrivetevi ciao